Buonasera a tutti, benvenuti a quest'ultimo giorno del Naturalmente Tecnologici. Stasera diamo il benvenuto a Marina Berardi, anche se in teoria dovrebbe essere lei a dare il benvenuto a noi perché siamo più ospiti di lei in questa terra. Penso che la conoscete tutti, comunque un paio di parole. Lei è originaria di Grassano, è antropologa di formazione, ha studiato a Roma, si è dedicata anche a progetti fotografici che potete trovare sul suo sito web marinaberardi.net Oggi ci parlerà, in realtà vorremmo parlare con lei di molte cose, però parlerà innanzitutto dello spopolamento che in realtà capiremo anche se è la parola giusta per definire quel concetto lì e parlerà appunto del suo progetto di dottorato che include un po' tutti noi che siamo qui oggi dato che siamo in una terra che soffre moltissimo questo problema e quindi i lavori come quello di Marina sono più che fondamentali. E parleremo anche appunto rispetto a Naturalmente Tecnologici, parleremo anche del digitale che vuol dire abitare digitale, quali sono le nuove sfide dell'abitare, quali sono i nuovi orizzonti che si aprono e quindi niente, le lascio la parola e vi ringrazio di essere qui anche oggi che è l'ultimo giorno e ringraziamo Marina Berti. Grazie. Mi fa sempre una certa emozione stare su questo palco perché quando si è a casa non si è mai profeta in patria per cui è sempre complicato poi riuscire a gestire questi momenti a livello emotivo. Comunque vi volevo ringraziare, volevo spendere davvero due parole per ringraziare tutta questa macchina folle che è stata messa in piedi in questi tre giorni. Quindi in primis vorrei ringraziare le ragazze e i ragazzi di Seascrack perché sono stati davvero casa, sono stati davvero al cova, sono stati tutto. E quindi insomma questo come primo pensiero. Volevo ringraziare anche tutti i relatori che mi hanno preceduto e chi ovviamente mi seguirà perché con ognuno di loro abbiamo avuto accesso ad una fonte di conoscenza speciale. Quindi ecco anche a loro va tutto il mio ringraziamento perché davvero usciamo ricchi da questa esperienza sia ovviamente umanamente ma anche dal punto di vista proprio della conoscenza diffusa, capillare. Insomma abbiamo creato qualcosa di unico secondo me. Abbiamo sperimentato tanti linguaggi diversi, ognuno la propria lingua, tanti ascolti diversi ognuno attraverso il proprio punto di ascolto quindi davvero grazie. E volevo ringraziare i relatori perché ci hanno accompagnato con la loro profondità perché sono stati sempre molto attenti ad ogni intervento che c'è stato, sono stati sempre molto puntuali ma anche abbiamo detto anche ieri sera abbiamo anche praticato un po' l'ironia che è un'arma fondamentale poi per addentrarci nei processi e volevo ringraziare quanti di voi oggi nonostante l'orario e il cattivo tempo insomma siamo qua e spero di poter dare a mia volta un contributo utile per noi tutti. Quindi ecco smetto con i ringraziamenti e partiamo. Allora l'invito che sono stata felicissima di accogliere da SISCRAC era proprio riferito ad articolare una riflessione sui miei temi di ricerca ovvero lo spopolamento. ovviamente cercando di far interagire questo tema con le sfide di questa tre giorni ovvero l'essere naturalmente tecnologici. Per cui ho pensato di declinare una parte della mia ricerca, una parte del mio studio sullo spopolamento proprio nella direzione dell'abitare digitale e dell'abitare locale. Come dicevamo prima cercheremo di capire un po' insieme cosa significa molto probabilmente molti di voi già intuiscono i temi. I temi sono temi che noi pratichiamo già nel quotidiano, fanno parte della nostra esperienza del quotidiano però ecco vorrei articolare con voi una riflessione comune corale anzi proprio per evitare questa frontalità, cioè non solo siamo in una dimensione di frontalità siamo anche sopraelevati quindi proprio per evitare questa frontalità interrompetemi quando ritenete opportuno se ci sono delle curiosità specifiche fatelo liberamente. Allora vi do un po' di contesto. A partire dal 2018 ho cominciato presso l'Università della Basilicata uno studio antropologico sullo spopolamento nelle cosiddette aree interne nello specifico mi sono soffermata nei comuni di Grassano, Grottole e Accettura vedete lì questi sono comuni, ovviamente Grassano ormai chi è di fuori sa siamo qua Grottole è in questo triangolo lì giù e poi Accettura è l'ultimo dei paesi che vedete qui sono tre comuni della provincia di Matera, mentre Grassano e Grottole a livello geografico li possiamo considerare comuni della collina materana, Accettura invece è un comune della montagna materana, sono comuni sotto i 5.000 abitanti, questa è un'informazione demografica che però ci serve un po' a individuare le ragioni per cui sono stati scelti all'interno di questa ricerca. Le ragioni per cui sono stati scelti è perché al di là della condivisione di una dimensione culturale omogenea portano con sé delle variabili indipendenti di specificità culturale come per esempio Accettura è il paese dove viene celebrato uno dei più antichi riti arborei della Basilicata, quindi oggi è una giornata che per me è cominciata con un incontro con le specie arboree grazie al laboratorio di Giacomo e quindi insomma c'è una bella circolarità, si parla ancora di alberi, Accettura quindi questa è la ragione per cui è stato fondamentale indagare le ragioni dello spopolamento ad Accettura, Grottole perché intercetta i flussi culturali globali, Grottole fino al 2019 è stato comune Sprar dove appunto c'era il progetto Sprar e in più attualmente c'è un progetto di partenariato con Airbnb che vede un intenso flusso di turisti provenienti da tutto il mondo, quindi era interessante vedere anche in termini idiosincratici forse diremmo le contraddizioni che emergono da questi due movimenti di flussi globali e poi Grassano perché al di là delle ragioni affettive perché sono originaria di Grassano, ma Grassano perché ci dà la possibilità di leggere il fenomeno dello spopolamento da un punto di vista diacronico, storico, della profondità storica. Grassano negli anni 50 è stato oggetto protagonista di un'inchiesta parlamentare sulla miseria e sulla povertà ai mezzi per combatterla e da questa inchiesta è possibile ricostruire anche una trama dello spopolamento non come fenomeno emergenziale ma come fenomeno strutturale perché è l'unico modo per poterlo effettivamente collocare nel tempo e nello spazio. Quando prima nella presentazione che mi facevano dicevano sarà poi interessante capire se effettivamente la parola spopolamento è la parola adeguata, in realtà parte del mio lavoro di ricerca ha cercato anche di riflettere criticamente sulle categorie culturali quale spopolamento, quale migrazione, quale area interna, perché a un certo punto si smette di parlare di migrazione e si comincia a parlare di spopolamento, perché a un certo punto si smette... qualcuno il primissimo giorno ha usato una parola che io non sentivo più da tempo perché abbiamo smesso di usare il termine entroterra per riferirci ai territori interni e abbiamo cominciato a parlare di area interna. Queste sono ovviamente costruzioni culturali, sono invenzioni culturali e quindi anche parte di questo lavoro di ricerca oltre ad osservare il fenomeno demografico della contrazione demografica ha provato anche a riflettere criticamente sul linguaggio che adoperiamo nel quotidiano e qual è il significato culturale che porta con sé questo linguaggio, quindi anche un lavoro di critica culturale, di cui però ovviamente non mi voglio addentrare, poi però se ci sono delle curiosità in merito ve ne parlo volentieri. Come ho lavorato? Ecco, vi dicevo che sono un'antropologa culturale, quindi ragionare, fare una ricerca sullo spopolamento come la fa un antropologo? Un antropologo ovviamente adopera un metodo che è il cosiddetto metodo qualitativo, gli antropologi non lavorano sui dati quantitativi, ovviamente nel mondo contemporaneo abbiamo la necessità di prendere in considerazione la dimensione anche quantitativa dei fenomeni ma spesso la dimensione quantitativa dei fenomeni ci restituisce una parte del fenomeno, ovviamente i dati vanno interpretati, l'interpretazione è sempre soggettiva, l'interpretazione soprattutto quando si parla di analisi legate ai flussi demografici sono spesso portatrici di significati anche di potere politici importanti, quindi abbiamo anche il dovere di decostruire questa dimensione. La dimensione invece qualitativa, il metodo qualitativo dell'antropologia culturale cerca di portarci dentro i fenomeni attraverso l'autorappresentazione locale del fenomeno, quindi per me spopolamento a un certo punto significava capire come le comunità locali elaborano l'ansia dell'abbandono, l'ansia dei vuoti, l'ansia delle partenze, l'ansia delle rovine, oppure come le comunità locali elaborano dei nuovi modi di immaginare lo spazio, lo spazio urbano, quindi è un lavoro proprio sull'autorappresentazione locale, in antropologia si chiama anche il punto di vista emico, il punto di vista interno ai luoghi, il punto di vista della comunità, quindi innanzitutto questo è il metodo adoperato, per cui non mi sentirete parlare di dati, ci saranno un paio di dati, ma anche per avere una dimensione, ma i dati non ci trasmettono il significato, la portata culturale del fenomeno. Come si lavora dal punto di vista qualitativo, che cosa fa l'antropologia, l'antropologo, l'antropologa fa ovviamente ricerca sul campo, quindi significa trasferirsi nei luoghi in cui fare ricerca. In questo caso è stato, nonostante le difficoltà del Covid e della pandemia, è stato relativamente semplice, perché è stato un po' un ritorno a casa, io che per tanti anni ero stata fuori, è stata anche la possibilità di ricollocarmi in uno spazio che per me non era quasi più uno spazio domestico, e quindi la ricerca sul campo in questo caso mi ha permesso di ricalibrare anche la mia distanza, anche intesa come distanza critica da quello che stavo osservando. Un altro dei metodi della ricerca antropologica è quello dell'osservazione partecipante. Vi do queste linee perché spesso si parla di sguardo antropologico, un punto di vista antropologico, però non abbiamo quasi mai la cognizione di che cosa sia realmente l'antropologia culturale come sapere scientifico. Quindi credo che questo momento per me è doveroso perché è un momento davvero in cui sono felicissima di poter trasmettere l'amore che ho poi per la mia disciplina alla comunità a cui appartengo e anche con le persone che non conosco e che probabilmente non sono neanche di qua, quindi ci tenevo particolarmente a parlarvene. Quindi l'osservazione partecipante è appunto piazzarsi, come diceva il grandissimo Malinoski, forse tu sorridi lo conosci, significa piazzarsi con la tenda nel campo, significa partecipare alla vita della comunità locale. Oggi in termini contemporanei parleremmo di ricercazione o di antropologia applicata, significa proprio prendere parte ai processi. Ovviamente poi è in questo stato di sospensione del giudizio, che è quello che in alcune fasi della ricerca si fa, questa sospensione del giudizio segue la cosiddetta analisi critica, quindi gli strumenti che servono per quello. Come ho lavorato però sempre in questi anni, in queste tre comunità? Stabilendo quali erano i gruppi di interesse, quindi gruppi di interesse formali o non formali, istituzionali e non, basti pensare appunto al dialogo con le amministrazioni o al dialogo con le associazioni locali, l'associazionismo locale è una porta verso alcune trame fondamentali della comunità, ma soprattutto la ricerca antropologica non può prescindere dalle storie di vita, dalla vita sociale degli attori, quindi i miei interlocutori fondamentalmente sono stati gli abitanti delle comunità, è stata la comunità e quindi è lì che si è soffermato lo sguardo. Qui tra di voi vedo qualcuno che è stato tediato con le mie interviste, alcune osservazioni, quindi siete voi i protagonisti della ricerca. Ovviamente è una ricerca che ho fatto da sola, nel senso che mi sono spesso mossa in questi spazi, in maniera solitaria, però ovviamente la ricerca è la voce delle comunità e delle persone che ho incontrato, quindi io non lo considero un lavoro personale, lo considero comunque sempre un lavoro collettivo. E quali sono gli strumenti dell'antropologia? Gli strumenti nel mio caso, soprattutto sono stati ovviamente il classico per Antonomasia, il diario di campo, il taccuino, che adesso può essere, nel senso che non è solo l'antropologo con l'agendina, ma può essere tante altre cose. Ho lavorato attraverso le interviste semistrutturate, che sono una cosa molto specifica, però non ve ne parlo. Sono stati fatti degli incontri di comunità, tra cui anche una mappatura di comunità. e proprio qui a Grassano abbiamo realizzato, in collaborazione con l'Auser, e in collaborazione con l'associazione Vox Populi, abbiamo realizzato una prima mappatura di comunità, che è stata fatta però, se non sbaglio, l'8 febbraio 2020, dovevamo proseguire, e poi ovviamente il calendario ormai lo conosciamo tutti. Sono state fatte gli itinerari emici, io li ho chiamati, ovvero le passeggiate di comunità, cioè passeggiate attraverso il camminare, attraverso il corpo, è stato possibile attingere alle storie sia individuali, ma allo stesso tempo storie collettive. E sono state fatte ovviamente delle analisi storico-archivistiche, ma usate non solo come fonte di documentazione, ma anche come fonte di elicitazione, ovvero attraverso le immagini, attraverso i video, sono stati usati come strumento per attivare pratiche di memoria, e anche in questo caso pratiche di memoria individuale, che poi diventa però una memoria collettiva. Quindi questo per restituirvi un po' il quadro della ricerca, per cui quando parlo di spopolamento, diciamo di ricerca, riguardante appunto lo spopolamento, scusate, in questi tre comuni, vorrei che voi vi immaginaste questo livello di complessità, questo livello di stratificazione. Questo era un esempio appunto del laboratorio di mappatura, avevamo montato una GoPro che è stato effettuato sempre qui a Grassano, dove abbiamo lavorato in realtà su due mappe, una mappa, era un po' più recente, dei primi anni 2000, e questa invece era una mappa più antica. È stato bellissimo vedere come, avevamo posizionato queste due mappe su due tavoli, ed è stato bellissimo vedere come le persone man mano scivolavano verso la mappa più antica, forse perché in qualche modo si attivavano proprio anche dei processi legati alla memoria. E qui appunto vedo in platea qualcuno che ha partecipato attivamente a questo momento di mappatura, che è stato un momento di condivisione intensissima, anche perché, anche qui lo dico un po' come se fosse un aneddoto, è stato interessante vedere come le varie generazioni interagivano con la mappatura. Noi spesso tendiamo a neutralizzare, a dare per scontato che sappiamo leggere gli strumenti come se fossero qualcosa di obiettivo, di oggettivo. È stato anche interessante vedere come sia necessario deoggettivare alcuni strumenti, alcuni strumenti, tra cui le mappe. A parte che le mappe sono simbolo sempre del potere, sono sempre stati strumento anche del potere, e quindi è un oggetto da usare sempre con cautela. Però è stato interessante vedere come per noi, che siamo una generazione abituata a muoverci in uno spazio mappato o georeferenziato, i nostri cellulari, Google Maps, noi siamo abituati un po' a orientarci in questo spazio bidimensionale. È stato interessante vedere invece come le persone particolarmente anziane erano molto in difficoltà, non riuscivano a entrare nella dimensione bidimensionale della mappa. E quindi uno strumento come la mappatura in quel caso diventa anche uno strumento problematico, inefficace, che può creare addirittura un disagio e quindi diventa uno strumento riflessivo, per cui ci permette di rielaborare delle pratiche di memoria, ma allo stesso tempo diventa anche esclusivo verso alcune parti della comunità. Ma come arriviamo un po' all'abitare digitale? Qui vi ho voluto inserire un'illustrazione sperando di farvi sorridere perché questa illustrazione secondo me un po' racconta in maniera sintetica uno dei pregiudizi storici dell'antropologia, ovvero arrivano gli antropologi, ci sono questi signori probabilmente di qualche gruppo etnico così in giro per il mondo, stanno per arrivare gli antropologi e quindi cominciano a urlare. Arrivano gli antropologi, nascondono tutti i loro dispositivi, quindi il telefono, il televisore, lo stereo, qualsiasi cosa. Perché? Perché c'è questa illustrazione? In realtà perché l'antropologia nasce come una disciplina estremamente controversa di cui ora non vi voglio anche qui se ci sono un po' di domande ne parliamo, sono disponibili ovviamente a discuterne. È una disciplina relativamente recente che si è interessata soprattutto, almeno inizialmente, dello studio delle, venivano chiamate in maniera, diciamo, assecondato appunto un pregiudizio evoluzionista le cosiddette società semplici, dando per scontato che potesse esistere un mondo semplice. Ovviamente l'antropologia quindi si è concentrata soprattutto in passato nello studio delle società senza scrittura, lì dove il sapere, la conoscenza veniva tramandato oralmente, per poi appunto scoprire la complessità che è appunto non aveva a che fare con il paradigma evoluzionista. Però che cosa succede? Succede che l'antropologia, gli antropologi, gli antropologhe scoprono appunto l'estrema complessità, fluidità del mondo anche in altri contesti. Se prima gli antropologi facevano il cosiddetto giro lungo per scoprire l'alterità, si rendono conto che l'alterità è un fatto sociale e culturale che però accade intorno a noi, siamo noi, la prima forma di alterità la sperimentiamo già a partire da noi stessi con il nostro vicino. Quindi ecco in quella illustrazione si condensa attraverso l'ironia un po' la storia degli studi. Però arriviamo a noi. Spero di avervi dato un po' di contesto generale rispetto alla disciplina, ovviamente sintetizzare è un po' un'operazione sempre brutale, però spero di avervi restituito questi contorni sia rispetto alla disciplina sia rispetto all'ambito della ricerca. Veniamo invece alla questione dello spopolamento, torniamo alla questione dello spopolamento. Avevo qui un piccolo video che però non partirà, no, questo non ce l'ho, questo era integrato alla presentazione, quindi non ce l'ho, realizzato dall'American Museum of Natural History dove in realtà vabbè era il video in sé era così un po' così poteva suscitare un po' di impatto per come era strutturato, però in realtà questo video che cosa ci mostrava? Ci mostrava la crescita della popolazione mondiale dalla prima emigrazione dall'Africa fino ad oggi e facendoci vedere come da questo lontano passato la popolazione mondiale rimaneva pressoché costante per per milioni di anni per poi arrivare vedete qui questo diciamo è l'anno zero quindi siamo dopo l'Out of Africa allora dall'anno zero all'anno mille la popolazione mondiale si attesta intorno a un miliardo di abitanti dall'anno mille in poi cominciamo a vedere delle grandissime trasformazioni a livello demografico per poi vedere l'impennata demografica che c'è tra appunto già a partire dal settecento fino ai giorni nostri che cosa vuol dire vuol dire che la popolazione mondiale ad oggi è una popolazione di sette miliardi di abitanti e che cosa sappiamo di questo sappiamo che siamo in sovrappopolamento quindi ovvero e che come si traduce il sovrappopolamento a livello del nostro quotidiano si traduce ovviamente in crisi energetica impatto climatico e tutte le problematiche annesse alla questione del sovrappopolamento ma cosa c'entra con lo spopolamento ne parlavamo proprio qualche ora fa forse ieri sera ne parlavamo in realtà sono due fenomeni estremamente connessi tra loro perché se da un lato vediamo questa popolazione mondiale accrescersi in questo modo in questa curva che è davvero esponenziale qui potete vedere invece l'andamento demografico della Basilicata che a partire dal 1861 quindi Unità d'Italia ad oggi dopo aver avuto varie vicende diventa ecco una curva che anziché salire discende quindi siamo in una fase abbastanza dichiarata conclamata di decremento demografico questo soprattutto a partire dall'81 poi le cause sono diverse e complesse se vedete anche diciamo in questo schema al lato la popolazione in Basilicata nel nel periodo compreso tra il 2019 e il 2011 ecco ha perso 24.000 abitanti rispetto al periodo no scusate ecco nel periodo compreso tra il 2019 e il 2011 ha perso circa 24.782 abitanti nel periodo compreso tra il 2018 e il 2019 ne ha persi un ulteriore 5.000 questi sono dati diciamo che per quanto vadano presi con le pinze interpretati sono abbastanza ci restituiscono davvero l'impatto di una misura che porta con sé dei significati importanti quindi ancora una volta passiamo da una crescita della popolazione di cui ovviamente si parla ovunque in termini più o meno scientifici è un tema che è ovviamente affrontato sia dal punto di vista demografico sia dal punto di vista antropologico sociologico è un fatto culturale a questo quindi da un lato la crescita della popolazione è quello che comporta in termini di cambiamento climatico ai quotidiani locali che invece ci parlano di una basilicata che rischia l'estinzione non solo io ho collezionato in questi anni un po' di quotidiani che in realtà sulle retoriche poi mediatiche potremmo aprire un ulteriore capitolo sulle retoriche dell'emergenza potremmo aprire un ulteriore capitolo però quello che ci viene adesso incontro è questo una basilicata che va verso l'estinzione una basilicata che evapora anche in termini simbolici le metafore che vengono adoperate sono significative le culle vuote la basilicata che si svuota lo spopolamento lo spopolamento addirittura che diventa una parola chiave dell'espresso per cui si fa un intero si dedica un'intera pagina alla parola spopolamento quindi vedere questa tensione tra quello che accade in termini globali e quello che accade a livello locale è interessante perché noi non possiamo polarizzare il fenomeno dello spopolamento o il fenomeno del sovrappopolamento dobbiamo imparare a leggerli come parte di un'unica tensione dialettica perché lo sono e rispetto alla storia locale volevo mostrarvi questo rispetto a Grassano come si colloca rispetto al problema dello spopolamento si colloca in questo modo dal picco demografico positivo Grassano l'ha avuto nel 1951 nel 1951 Grassano contava una popolazione residente di circa 8.418 abitanti nel 2019 in questo caso è l'ultimo dei censimenti che ho a disposizione ha una popolazione di 4.928 abitanti vedete da quindi dal 1951 al 2019 la popolazione di Grassano cioè il comune di Grassano ha perso circa 3.490 abitanti questi sono numeri che un po' ci destabilizzano se pensiamo a quelle che possono essere delle prospettive future per cui se il trend dovesse confermarsi tale è chiaro immaginare un diciamo un deserto urbano è facile immaginare l'estinzione dei paesi perché i trend sono abbastanza drammatici anche qui vi volevo mostrare un'altra diciamo grafica allora vedete perché poi quando parliamo di spopolamento abbiamo visto che non possiamo leggere parlare di spopolamento intenderlo come un fenomeno che riguarda tutti perché abbiamo visto che nel mondo abbiamo il problema opposto e quando parliamo di spopolamento in Basilicata ovviamente non possiamo vederlo e leggerlo come un fenomeno neutrale o comunque omogeneo in tutta la regione perché ci sono realtà che vivono invece una dimensione in termini demografici diversa e qui lo vediamo bene guardiamo alla prima mappa tra il 71 e il 2011 i comuni quelli in verde sono tutti comuni che hanno perso più del 25% della popolazione quindi più è verde più è alto il numero di persone che hanno abbandonato il proprio paese invece le aree quelle in giallo corrispondono ai comuni che hanno acquisito oltre il 25% di popolazione quindi come si colloca il fenomeno dello spopolamento in Basilicata vedete tutte queste aree che chiamiamo per convenzione aree interne ma qui non voglio aprire la parentesi sulle aree interne comunque per convenzione sono aree interne e sono quelle soggette allo spopolamento i comuni come Matera e Potenza invece sono i comuni che hanno acquisito parte della popolazione ma anche le comunità lungo la costa ionica hanno acquisito popolazione non sono quindi spopolamento anche i comuni intorno a Potenza sono in positività demografica vi chiedevo di concentrarvi su questa perché per esempio nella seconda illustrazione il trend viene confermato però lo vedete più attenuato e quindi distinto viene da pensare che forse è un po' diminuito il trend migratorio in realtà il lasso temporale che viene preso in considerazione è inferiore lì parliamo dal 71 al 2011 qui parliamo dal 2000 al 2011 quindi questo è un decennio per cui non è rappresentativo chiederti una cosa in questo grafico a sinistra può essere benissimo interpretato come se proprio quelle aree si siano spostati gli abitanti di quelle aree si siano spostati quasi equamente perché mi immagino comunque il periodo del 71 al 2011 come un periodo in cui quegli spostamenti poi andavano a finire proprio verso Matera o verso Potenza come se all'interno si facesse un solco in una pendenza invece questa perdita qui magari me la immagino visto che anche Matera e Potenza acquisiscono di meno o comunque le aree che acquisiscono acquisiscono di meno come se comunque è una fuga in generale come qualcosa che riguarda tutta la Basilicata mentre lì all'interno della Basilicata un riposizionamento può essere letta così Allora sì cioè nel senso in questo caso quello che noi vediamo nel primo schema chiaramente il fenomeno intercettare il flusso migratorio da questa mappa è complicato però rispetto chiaramente poi alle informazioni all'atere che ho avuto a disposizione da un lato c'è stata un'emigrazione verso i centri urbani e quindi verso Matera verso Potenza è sempre l'area ionica perché c'è stata anche un'importante emigrazione negli anni 70 lungo la costa ionica e quindi sicuramente poi c'è ovviamente un'emigrazione i classici flussi migratori verso il nord Italia verso il centro Italia verso l'estero in questo caso è vero che si attenuano questi colori quindi a un certo punto pensiamo che anche il flusso verso le città da parte delle aree interne sia diminuito in realtà questo perché? Perché è l'intera Basilicata che sta vivendo il decremento demografico ovviamente in forma diversa con una pressione diversa però effettivamente il declino è generale pur tenendo in conto del fatto che stiamo parlando lì appunto di 10 anni 11 anni e lì di 40 però sì nel senso che l'osservazione è assolutamente giusta è quello in parte che è successo stessa cosa qui qui vabbè abbiamo semplicemente la traduzione in termini numerici di quello che abbiamo visto nelle due mappe precedenti questo è una variazione demografica che fa riferimento al 71 2011 quindi quella che vedevamo diciamo lo schema che vedevamo a sinistra vedete come si colloca la variazione demografica dove c'è scritto polo sono i centri potenza e materia lì non hai un termine negativo c'è la materia e potenza guadagnano il 25% della popolazione ma dal 2000 al 2011 perdono lo 0,2% della popolazione quindi chiaramente non stiamo parlando del 7% dei comuni ultraperiferici o del 4,2% dei comuni periferici questi due dati andrebbero letti insieme stiamo parlando di un numero sicuramente quasi pari allo zero che però ci attesta un decremento demografico cioè lì cresceva del 25% qui invece è quasi una variazione che porta allo zero allora sì scusate se rifaccio un attimo una panoramica rispetto a questi dati presi in considerazione nel 2012 in Italia è nata la cosiddetta strategia nazionale per le aree interne è diciamo una strategia nata in seno è un'iniziativa nata in seno al governo e il lavoro che hanno fatto più o meno discutibile è quello di classificare le cosiddette aree interne italiane per poi suggerire delle strategie di sviluppo in queste aree interne per fare questa classificazione delle aree interne hanno adottato dei parametri cioè come stabilisco quando un paese è un'area interna e quando non lo è in base e forse ho uno schema qui in base alla distanza che dal singolo paese impiego per arrivare nei comuni o nei centri dove ci sono i servizi essenziali e per servizi essenziali intendiamo ospedali scuole università eccetera quindi che cosa significa i comuni polo quelli che vedete in mattone rosso ruggine color ruggine sono i centri urbani dove ovviamente esistono tutti i servizi essenziali quindi io non impiego nessun tempo diciamo per arrivare al diciamo al servizio essenziale e in Italia diciamo i comuni polo sono tutti questi che vedete adesso segnalati in rosso vedete la basilicata in basilicata il comune polo sono due sono Matera e Potenza ora arriviamo poi ci sono i poli di attrazione intercomunali e le aree di cintura le aree di cintura quindi sono quei comuni che sono già dotate magari di servizi essenziali però magari alcuni servizi essenziali come può essere anche il tribunale è ad una distanza di circa 20 minuti e le aree di cintura per esempio in basilicata è l'area intorno a Potenza quindi l'area di Tito quella è già classificata come area cintura poi entriamo diciamo nei comuni verdi i comuni verdi sono le cosiddette aree interne a loro volta hanno sfumature diverse queste aree interne quindi il verde è un po' più acceso vuol dire che è un'area intermedia vuol dire che io impiego per raggiungere il mio servizio essenziale cioè scuola e ospedali dai 20 ai 40 minuti che è già diciamo un numero importante ma la cosa diciamo più drammatica sono le aree ultraperiferiche ovvero i comuni in cui io impiego più di 75 minuti per arrivare in ospedale oppure più di 75 minuti per arrivare a scuola e il dato diciamo lucano è abbastanza diciamo il caso lucano che poi chiaramente è correlato alla questione anche dello spopolamento e della contrazione demografica è che l'intero territorio è un'area interna a parte escluse Matera e Potenza cioè su 131 comuni 126 sono aree interne 5 no 5 saranno che ne so forse Bernalda esatto questi escluse questi tutto il resto siamo aree interna ovviamente non tutti siamo ultraperiferici il caso di Accettura per esempio che è uno dei comuni che io ho preso in considerazione era interessante perché rientra nella strategia nazionale aree interna come area ultraperiferica e quindi ha fatto parte anche della sperimentazione della SNAI si chiama SNAI è l'acronimo che si adopera e quindi insomma è stato interessante vedere come un comune scelto nella Basilicata all'interno della strategia nazionale aree interna se effettivamente si attivavano dei processi dal basso per reagire anche alla questione dello spopolamento quindi questo è per avere un'idea per rispondere alla domanda su che cos'è un paese cintura un'area cintura un'area cintura è ancora un'area che gode di una certa vicinanza ai servizi essenziali pur ovviamente non essendo un polo di attrazione urbana visto che siamo arrivati a questo schema è interessante vedere ora quello che c'è accanto qual è lo schema che c'è accanto lì è una rappresentazione grafica dell'Italia in cui vediamo qual è la velocità massima di connessione nei singoli comuni anche qui i colori più scuri rappresentano una velocità vabbè diciamo come posso dire gli elementi stiamo parlando di comuni a velocità zero fino a una velocità di connessione di 945 megabyte al secondo chiaramente 900 megabyte al secondo sono tantissimi e quindi è immaginabile che non tutto il territorio nazionale abbia una dotazione un'infrastruttura digitale così importante però vedete come si collocano cioè vedete io a certe volte immagino quasi una sovrapposizione io qui questa diciamo questa slide ecosistemi digitali ed ecosistemi locali in qualche modo riflettono una simmetria sia digitale che locale che è quasi sovrapponibile ovviamente non del tutto perché qui la Basilicata per esempio vedete già nell'area più prossima alla Puglia ha una connettività più elevata però bene o male tutta l'area alpina e l'area appenninica è più chiara ed esattamente diciamo sovrapponibile al discorso delle aree interne quindi per avere una lettura ampia dei fenomeni noi siamo in una condizione in cui stiamo assistendo ad un divario degli ecosistemi locali che va di pari passo anche ai divari degli ecosistemi digitali e questo è un elemento che ovviamente ci invita a riflettere qui per ritornare alla vostra osservazione in questa mappa abbiamo la classificazione dei comuni della Basilicata rispetto alle aree proprio interne e quindi quelli in verde proprio scuro sono gli ultraperiferici per esempio Grassano è un comune classificato aria interna ma come comune periferico non so avevate qualche domanda no no qui tre rosa sono il allora c'è Potenza Tito e quindi tutta l'area industriale intorno a Tito sì 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 sono loro intorno a Matera non c'è l'area di cintura diciamo che ci sono le aree intermedie ma sono già aree interne il che vuol dire che nelle aree intermedie hanno comunque bisogno di arrivare a Matera per avere accesso a tutti i servizi essenziali quindi diciamo la situazione è questa va bene quando vuoi anche adesso ti volevo chiedere a rischio di di lottarti un po' ed è una cosa che in generale non si fa perché quando qualcuno presenta una sua ricerca la cosa più fastidiosa che si può fare è dire ma perché non hai fatto invece quell'altra cosa no io ho fatto questa ricerca qui perché mi devi andare no però quando hai parlato di spopolamento hai detto io mi riferisco faccio l'osservazione partecipante con le comunità locali ora io mi viene istintivo pensare un po' perché sono qui perché ho qui a te al tavolo e perché ho visto come è nata questa situazione che chi se ne va lo spopolamento riguarda chi resta riguarda anche in parte chi se ne va che in molti casi continua a considerarsi che ne so un grassanese a Milano a Torino a Roma a Matera ovunque sia io lo so personalmente mio padre è antropologo perché se ne è andato da un paesino e ci è tornato a fare le ricerche di antropologia qui intuisco che la sorte è poi la stagione che si va fuori si fa una carriera però c'è una sensazione infatti dici quando sono tornata l'ho tornata a considerare casa no e lo stesso modo se non ci fossero dei grassanesi che sono in giro per l'Italia io non sarei qui ho incontrato uno a Torino e mi ha detto facciamo questa cosa splendida a Grassano e sono venuto quindi in qualche modo c'è quest'altro lato della popolazione cioè lo spopolamento riguarda chi resta riguarda chi resta chi si può sentire abbandonato chi può vivere in maniera diversa questa cosa poi ci parlerai sicuramente dei dati che hai raccolto su questo l'altro lato che magari non so se l'hai ricercato ma sicuramente lo conosci empaticamente è stato considerato viene considerato in questa in questa cosa in questa linea di studi c'è qualcuno che mette in relazione queste due cose perché credo che sia anche quella cosa che dà una grossa carica alla ricerca a questa specie di autoetnografia cioè quando tu ti ritrovi a un tavolo con magari un'altra generazione di grassanesi c'è anche non solo la volontà della ricercatrice ma è anche un capire questo posto che io considero casa però di cui mi sono magari perso o persa dei pezzi anche consistenti o così come alla tua ricerca si potrebbe rifare il ragazzo che è cresciuto qui poi è andato fuori e dice ma io però sono un grassato però che significa lo so davvero lo so ancora insomma questo autoracconto fa parte un po' di una dinamica non è esterno entra dentro la dinamica dello spopolamento questo volevo non so se hai capito grazie anzi perché mi dai la possibilità di parlare di alcune cose che ho saltato o forse stavo anche saltando quindi davvero grazie allora faccio un passo ancora ulteriore indietro rispetto alla tua domanda per arrivare a dirti un paio di cose ed è un aspetto di cui avevo intenzione di parlare questa sera perché questa sera continuiamo questo discorso c'è la festa dell'emigrante e quindi lì mi sarei concentrata particolarmente sulla differenza tra emigrazione e spopolamento che è appunto conserva già in termini semantici abbiamo due parole diverse e portano con sé significati azioni e processi diversi parlare di spopolamento rispetto alla diciamo ecco torno ancora indietro che cosa significa emigrazione l'emigrazione è un fenomeno che appunto anche in Basilicata si conosce in termini storici in termini sì è un po' connaturata alla storia del nostro territorio assunto forme diverse perché poi è un fenomeno estremamente trasversale e stratificato si può parlare di emigrazione in tanti modi però è diciamo un fenomeno a cui siamo abituati a confrontarci porta con sé appunto l'esperienza individuale dell'emigrare parlare di emigrazione implica parlare di colui che va ovviamente spesso quando parliamo di emigrazione rimuoviamo un altro elemento ovvero che colui che emigra è sempre colui che diventa immigrato da qualche parte sperimentando varie perché c'è tutta una dimensione emotiva di cui l'antropologia si occupa rispetto all'atto in sé dell'emigrare si parla per esempio dello sperimentare la cosiddetta ubiquità impossibile cioè il migrante è colui che è doppiamente assente sia nel mondo di arrivo che nel mondo di partenza è una sperimenta una sorta di sospensione spaziale e temporale perché quando torna si riannuda ai processi della memoria anche in maniera bizzarra pensate ai migranti che andavano via da queste comunità e andavano in Germania magari li senti parlare un dialetto che tu non pratichi più li senti rievocare delle memorie che in parte neanche ti appartengono più e questo e poi sperimenti sempre appunto in questo ubiquità impossibile l'assenza nel mondo di arrivo perché non sei pienamente presente e non sei pienamente assente poi c'è il discorso dell'autorappresentazione rispetto all'emigrazione cioè io che magari ho 40 anni 50 anni e transito sono inserito in un processo di andirivieni costante con la comunità da cui sono andato via mi sento un emigrante se ne parlava qualche giorno fa nella chat diciamo di comunità che abbiamo alla scoperta di Grassano in cui proprio qualcuno di noi diceva sì ma io vivo a Firenze da da tanti anni però non mi sento di dire sono un emigrante perché perché siamo a disagio con questa categoria perché è una categoria culturale costruita culturalmente direbbe proprio l'antropologo per definizione è una categoria determinata culturalmente la categoria di emigrante che è estremamente ambigua perché nel processo di emigrare c'è un processo di soggettività di storie personali individuali per cui io non mi sento probabilmente di appartenere alla categoria del migrante che emigra inoltre in questo processo emotivo sperimenta anche il senso di colpa cioè tutta la colpa dell'emigrante il fatto di essersene andato anzi a maggior ragione ora che si parla di spopolamento noi sentiamo spesso noi che viviamo fuori e non sappiamo bene come collocarci sentiamo anche il senso di colpa per aver in qualche modo contribuito alla destabilizzazione territoriale anche questo è un elemento un fardello che ti porti dietro perché l'ansia dell'abbandono dei luoghi è qualcosa che in qualche modo viene incorporato quando vai via da questi territori forse perché ci educano anche ad una sorta di a rivendicare sempre ad avere un amore per le nostre identità locali e poi c'è un'altra questione sempre chi è che emigra durante la mia ricerca oltre quindi a confrontarmi con la popolazione che è emigrata in senso classico oppure si colloca in questa dimensione di sospensione ho provato a intercettare un'altra categoria di migranti che sono gli studenti fuorisede gli studenti fuorisede sono anagraficamente appartenenti cioè loro risiedono nel comune quindi spesso nella maggior parte dei casi non vanno a cancellarsi all'ufficio anagrafe quindi se si fa un censimento di popolazione residente lo studente fuorisede è presente però c'è un dato il 74% degli studenti universitari lucani studia fuori dalla basilicata e quindi in parte questo dato noi lo riscontriamo anche a Grassano quindi c'è un'ulteriore categoria di migranti che sono gli studenti fuorisede che appunto nel caso in una delle interviste che ho fatto proprio ad una studentessa fuorisede non è a suo agio nella categoria di studentessa fuorisede dice io odio la parola fuorisede perché è come se non fossi nel posto giusto se vado a pensare essere fuorisede è come se qualcuno mi avesse tolto dalla sedia è come se qualcuno mi facesse notare che sono nel posto sbagliato invece in realtà scelgo di muovermi liberamente e di scoprire il mondo in questo modo e quindi questa diciamo la domanda io ti ringrazio per avermela fatta perché appunto ci dà la possibilità di comprendere quanto è diversificato al suo interno il fenomeno dello spopolamento che come dicevamo anche ieri sera a differenza dell'emigrazione che ti fa sentire appunto il fardello e il senso di colpa per l'essertene andato diventa che cosa fa lo spopolamento diventa una conseguenza un problema del territorio cioè ti deresponsabilizza rispetto a diciamo la decisione individuale dell'andare diventa una conseguenza dei luoghi che sono abbandonati non è più l'emigrante ma il luogo abbandonato non è più l'ubiquità impossibile ma le rovine le case vuote le case in vendita quindi diventa qualcosa che vai a percepirlo anche nel patrimonio materiale del costruito se tu fai un giro a Grassano come percepisci lo spopolamento nelle case vuote nelle case con le scritte vendesi e questo poi c'è un'altra popolazione quando si parla di spopolamento ovviamente oltre a intercettare questi flussi verso l'esterno è fondamentale confrontarsi con chi resta c'è l'antropologo Vito Teti che è un antropologo calabrese che sta lavorando sta dedicando tutti gli ultimi cioè tutti in questi ultimi anni proprio alla questione del senso dei luoghi che cosa significa abitare un luogo che cosa significa appartenere a un luogo che cosa significa andare via da un luogo e lui ha coniato un termine che ora è abbastanza diciamo blasonato spogliato un po' dal suo significato originario che è il termine della restanza cioè quell'andare un po' nomade in cui appunto sperimentare a vari gradi di coscienza è proprio esserci e al contempo non esserci però non in maniera polarizzata ma in maniera dialettica diremmo e quindi diciamo la questione dello spopolamento io l'ho intesa in questo modo l'ho intesa ovviamente guardando cioè ognuno di noi porta ognuno di noi è migrante nel momento in cui nel momento in cui transitiamo su questa diciamo su questa terra siamo migranti però ci sono delle condizioni storiche politiche geopolitiche che ci attribuiscono questa dimensione e a volte appunto neanche è scontato riconoscersi in questo quindi non so se ho risposto diciamo alla tua curiosità domanda e ora cerco di prendere il filo però mi piacerebbe continuare su questa linea quando rispetto appunto a quello che dicevamo prima cosa significa spopolamento cosa significa vedere questi territori che cambiano avete visto prima poco fa ecco no ok queste pagine di giornale vi dicevo prestiamo anche attenzione alla retorica delle parole la basilicata va verso l'estinzione no la basilicata evapora quando parliamo di spopolamento quando chiediamo alle persone quindi agli interlocutori locali che cosa è per loro spopolamento in diversi casi in quasi tutti i casi c'è il sinonimo di spopolamento per me è desertificazione ora desertificazione che cos'è è una desertificazione simbolica sicuramente ma nel caso lucano abbiamo anche una desertificazione reale io di questo ho avuto il piacere di parlarne ed è qui presente con Vincenzo Ritunnano che mi ha diciamo introdotto anche un po' nella dimensione delle conseguenze dal punto di vista proprio di impatto ambientale dello spopolamento perché se il sovrappopolamento ha un impatto ambientale su il diciamo su inquinamento cambiamento climatico eccetera lo stesso per quasi nemesi diremmo accade con lo spopolamento perché in parte si produce un abbandono dei territori e quindi anche un abbandono di presidio dei territori ognuno di noi è un presidio quello che state facendo che stiamo facendo giù al confino al camping è un presidio un presidio territoriale magari circoscritto in questo caso nel tempo ma quante cose avete sistemato in questi giorni esatto perché perché nel momento in cui hai messo piede in campagna ti sei reso conto che magari quel solco che prima tuo nonno faceva di continuo serviva per arginare l'acqua che andava a devastare la vigna e poi ti sei reso conto del pozzo che però quindi sono tutta una serie di piccole cose ora le vediamo circoscritte che però vi hanno portato ad essere protagonisti di un presidio territoriale che è comunicazione simbiotica con il territorio oggi abbiamo fatto un'esperienza meravigliosa di dialogo con alcune specie vegetali con Giacomo anche quello è stato un momento di presidio oppure l'esperienza con Paolo che ci ha mostrato i dispositivi gli strumenti di monitoraggio posso definirli così anche quello saranno nel futuro un presidio oppure l'opera d'arte che è stata realizzata da oddio mi sfugge il nome pochi Emanuele sì anche quello è un presidio immobile non lo so se è immobile perché nel momento in cui con il nostro corpo ci soffermiamo a guardare quell'elemento che fino a due giorni fa non c'era e oggi c'è abbiamo la possibilità di attivare poi tutta una serie di processi e in questa assenza di presidio per esempio dobbiamo registrare un dato un ulteriore dato nel portale Global Forest Watch si parla di Basilicata e si dice che la Basilicata è una delle regioni dove c'è la più alta perdita di suolo e questo è diciamo un dato connesso direttamente allo spopolamento in parte sì in parte sì perché è il modo in cui ci muoviamo nei territori la Basilicata è anche la terra appunto del carcismo dei calanchi siamo abituati a a immaginarci un po' sia nella desertificazione come processo ma anche nel deserto e qui vi riporto un estratto di una scrittrice lucana Claudia Durastanti che nel 2019 ha scritto questo libro un romanzo bellissimo dal titolo La straniera in cui dice è ambientato in Lucana c'è stato tanti anni dopo essermene andata che ho scoperto di essere cresciuta nel deserto e ognuno di noi secondo me quando va via dalla Basilicata e torna tutti fotografiamo il calanco poi perché ci regala delle emozioni e niente quando fotografiamo i calanchi ci rendiamo sempre conto di essere cresciuti nel deserto che però in termini simbolici significa molte altre cose e quando tutti spariscono questo c'è scritto nella stessa frase quindi dal deserto alla scomparsa una comunità non può affidarsi più a quello che ha ma deve creare nuove piante capaci di immagazzinare l'acqua deve aprire delle vene nel terreno crepato dalla siccità quindi noi abbiamo il dovere di aprire queste vene nel terreno crepato della siccità e di essere noi i portatori di quest'acqua di essere noi gli irrigatori di questo deserto ma possiamo immaginare quindi rispetto a questo messaggio positivo delle nuove identità locali come possiamo confrontarci con questo nuovo paesaggio qua vi leggo proprio in realtà possiamo immaginare di muoverci in questo paesaggio anche attraverso le pratiche di immaginazione l'essere umano diciamo abbiamo una visione antropocentrica e quindi diciamo l'essere umano differisce dalle altre specie anche se Giacomo non sarebbe assolutamente d'accordo con me ma sono d'accordo io con te differisce dalle altre specie animali o vegetali perché è in grado di comunicare sul passato sul futuro e sull'invisibile noi spesso la traccia dell'immaginazione la diamo un po' per scontata pensiamo che non sia legittima tanto quella della nostra capacità di parlare su cose concrete ovviamente l'antropologia lavora invece moltissimo sul patrimonio immateriale e quindi la dimensione intangibile invisibile è parte della nostra disciplina ed è importante fondamentale soffermarsi sulle pratiche di immaginazione sui desideri su quello che ci spinge anche attraverso la repulsione il fatto di andarsene a volte perché si entra in una dinamica anche di conflitto territoriale io qui non trovo niente nessuno mi capisce provo una repulsione emotiva che mi spinge ad andare al di là e questo è un fatto culturale da prendere in considerazione e quindi gli spazi virtuali ci mettono in condizione di avere nuove modalità di costruzione simbolica delle identità locali cioè attraverso gli spazi digitali i luoghi digitali noi possiamo cominciare a costruire simbolicamente i nostri nuovi sé le nostre nuove identità locali i nostri luoghi e quindi questo per cominciare a introdurre la questione dello spazio digitale che c'entra con lo spopolamento ora ci arriveremo lo spazio digitale come lo spazio locale è un luogo di pratiche un luogo di pratiche si intendono i luoghi in cui ci relazioniamo no e ci relazioniamo come attraverso la creatività culturale attraverso l'appaisamento cioè il fatto di sentirmi a casa attraverso lo spaisamento attraverso diciamo il sentire il vivere le disuguaglianze perché ci sono delle disuguaglianze strutturali che spesso abbiamo dobbiamo cominciare a comprendere se vogliamo ragionare in termini di rinnovamento le pratiche sono anche quei processi che portano in sé il conflitto spesso il conflitto viene visto come qualcosa di negativo in realtà diciamo dietro il conflitto possiamo cominciare a leggere le pratiche dell'umanità forse avevi detto che tu ti sei occupato di conflitti in passato quindi sicuramente ne saprai meglio di me però ecco dal punto di vista antropologico noi cominciamo a fare etnografia lì dove scorgiamo il conflitto perché lì dove c'è il conflitto in pratica vengono messe in rete in relazione dinamiche complesse intime anche della località se parliamo di località ma come immaginare un nuovo paesaggio perché se parliamo di immaginazione allora dobbiamo cominciare a dire come immaginiamo il paesaggio che cos'è il paesaggio se dovessi chiedere a ognuno di voi di farmi una definizione di paesaggio avremmo un'infinità di risposte tutte corrette probabilmente e spesso siamo nei nostri ormai vocabolari arricchiti da termini provenienti dall'inglese la parola landscape il mio dottorato di ricerca a Matera era un dottorato in cities and landscapes e quindi a un certo punto dice ok visto che abbiamo così incorporato questo landscapes che cos'è? deriva da una parola landscape vedete la seconda parola non è un errore non è un refuso ma è il termine che deriva dall'inglese antico landscape landscape scusate non so se si pronuncia così perché l'inglese antico non lo conosco che significa letteralmente terra modellata ovvero si riferiva all'uso nel tempo al territorio dai confini imprecisiati che sottostavano alle consuetudini e alle leggi non scritte di coloro i quali si riunivano nello stesso ting che significa che questo territorio che veniva definito landscape era un territorio che nasceva attraverso le consuetudini quindi attraverso le abitudini e da questo deriva il paesaggio quindi quello che noi possiamo affermare di essere il nostro paesaggio il primo paesaggio che sperimentiamo è il nostro corpo ecco perché io vi dicevo all'inizio ho provato a fare i cosiddetti itinerari emici ovvero le passeggiate patrimoniali ma non sono semplici passeggiate sono il portare il proprio corpo come dimensione olistica totale capace di vivere tutte le dimensioni corporee sensoriali all'interno sia del proprio paesaggio che nel paesaggio circostante quindi costruiamo il nostro paesaggio attraverso la nostra esperienza corporea e quindi insomma immaginare un nuovo paesaggio significa cominciare a immaginare già il proprio corpo collocato in questo spazio immaginare il proprio paesaggio significa riflettere sulle trasformazioni il paesaggio è qualcosa di dinamico cioè noi pensiamo che il paesaggio siano le colline della Val Basento che in qualche modo a parte i pannelli solari e le paleroliche più o meno restano costanti nel tempo non è così il nostro paesaggio si trasforma importante per questo praticare la memoria del paesaggio e durante la mia ricerca per esempio tra gli elementi che più emergono trasformativi del paesaggio sono emerse ovviamente le case vuote perché è un elemento imprescindibile il parco eolico perché riguarda soprattutto grottole ma noi lo vediamo quindi forse lo viviamo più noi in termini di trasformazione riguarda le pratiche ora sulle pratiche vi mostrerò un piccolissimo video riguarda le piazze riguarda un altro elemento l'estrattivismo e l'industrializzazione che hanno un ruolo di protagonismo in termini di trasformazione del paesaggio in Basilicata ma anche in termini di conseguenze e di impatto che hanno avuto sia a partire appunto dicevamo dai propri corpi da tutto ciò che in termini salutogenici ha rappresentato sia in termini proprio di trasformazione e di discempio dovuto all'inquinamento del suolo che hanno rappresentato e questo diciamo all'interno della ricerca è stato fondamentale perché quando parliamo di costruire di ricostruire storicamente il fenomeno dello spopolamento non possiamo prescindere dalle esperienze sia dell'estrattivismo ma anche dalle esperienze della chimica la chimica della Valbasento e quindi anche quello diciamo diventa spesso una domanda era ma può essere la causa dello spopolamento può essere che un territorio spopolato dalla sua popolazione attiva sia un volere per avere un territorio in grado di poter gestire liberamente era una domanda scomoda ma spesso la risposta anche a livello popolare poi si può discutere spesso c'è la sensazione che o quantomeno è un fatto l'autorappresentazione di questo come problema quindi perché no la trasformazione del paesaggio in questi territori è il terremoto dell'80 ho fatto un lavoro diciamo sull'immaginario vernacolare cioè su come a livello locale rappresentiamo i luoghi ho chiesto ognuno dei partecipanti a questa ricerca nella maggior parte dei casi di individuare delle immagini rappresentative del loro comune che in qualche modo per loro rappresentavano la loro comunità potevano scegliere tutte le fotografie di questo mondo fatte da loro fatte da un fotografo famoso fatte da che ne so trovate negli archivi di famiglia potevano attingere alle cartoline potevano attingere a tutto l'immaginario visuale che volevano è stato interessantissimo il caso di un ragazzo che nel scegliere due immagini ne ha volute scegliere due ha scelto i resti di un mulino di cui si parlava anche qualche giorno fa che è una rovina che è nei giardini di Grassano e quindi mi ha portato questa immagine e quindi una rovina e poi ha detto no per me la fotografia che rappresenta l'essenza di Grassano è la foto quella storica del terremoto dell'ottanta in Corso Umberto dove si vedono tutte le case crollate e quindi per me è stato un po' scioccante vedere come la scelta di uno dei ragazzi più giovani che io abbia intervistato ricadesse su due rovine la rovina del terremoto dell'ottanta che probabilmente non l'ha vissuto però l'ha incorporato come trauma sociale perché anche quello è è poi una rovina di un luogo che lui ha scoperto così per sentito dire non lo so comunque ha scoperto e ha deciso di fotografare perché in qualche modo gli restituisce l'essenza del paese e quindi per questo ragazzo l'essenza del paese diventa la rovina diventa la rovina del terremoto ma anche la rovina delle cose abbandonate che smettono di avere un uso eccetera non so che tempi ho? ok allora perché avrei adesso tutta una parte su invece la dimensione digitale però visto che mi sembra che ci sia più attenzione forse più interesse scusate perché l'attenzione ne avete tanta su alcune questioni quando si parla di di spopolamento si parla anche di declino di pratiche di comunità cioè oltre a vedere il calanco cioè no scusate il calanco oltre ad assistere alla desertificazione abbiamo visto reale del territorio assistiamo anche a un declino di pratiche cioè perdere le parti porzioni di comunità significa in qualche modo perdere banalmente direi perdere le tradizioni come ci dicono perdere i saperi perdere gli antichi mestieri perdere la peculiarità del linguaggio dialettale perdere tutto ciò ma in realtà per esempio nel caso di Accettura vi volevo mostrare un video perché tra di noi vedo diverse persone che non sono magari di queste zone quindi vorrei mostrare loro che cosa significa per me un declino di una pratica vi menzionavo inizialmente il mio interesse nei confronti di Accettura che ha fatto parte di questa ricerca Accettura è un paese di 1700 abitanti dove viene celebrato un rito arboreo non so se sapete cos'è un rito arboreo per semplificare ma qui il parroco di Accettura me ne direbbe di cotte e di crude è un innesto simbolico tra due specie arboree che vengono tagliate quindi non sono due specie in vita che è appunto la quercia ecco perché oggi avevo tante cose da dire a quella quercia chi c'era con me non mi ricordo comunque tra due specie arboree tra la quercia che rappresenta simbolicamente chiamato il maggio che rappresenta simbolicamente il marito e un agrifoglio chiamato cima che rappresenta simbolicamente la moglie quindi viene fatto questo innesto simbolico tra queste due specie arboree è chiaramente un rito particolare speciale per me che lo vivo da tanti anni che lo studio dal 2012 in cui appunto per chiaramente investe la comunità per 365 giorni l'anno però ha il suo momento culminante a 50 giorni dopo dalla Pasqua quindi durante la Pentecoste quindi è un rito di primavera è un rito di iniziazione del nuovo calendario agricolo quindi si inserisce all'interno di una ciclicità del tempo contadino pur avendolo noi diciamo trapassato avendo scelto di vivere in una dimensione lineare del tempo e vi volevo mostrare il lavoro che ho realizzato ad Accettura in questi dieci anni mancano un po' di foto degli ultimi anni perché in questo video questo è un video fino al 2019 quelle di quest'anno non ho ancora avuto modo di editarle in cui vi volevo mostrare proprio che cos'è una pratica di comunità in questo caso una pratica rituale la musica forse non si sentirà perché abbiamo detto che non c'era l'audio vediamo di questo così un po' di l'audio è attenzione Pronto? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La mia presentazione adesso cominciava un'altra fase che però non comincerei neanche a questo punto. Sì, rispetto a quello che ci siamo detti finora è tradurre quei numeri che ci siamo detti un po' all'inizio. Quando si parla di declino demografico, di spopolamento, di emigrazione, scegliamola noi la categoria con cui ci vogliamo rappresentare o con cui ci rappresentiamo meglio. Dicevamo prima di lanciare questo video, ha una traduzione culturale in termini di impatto e questo declino di pratiche di comunità significa questo. Io ho avuto la possibilità di osservare un rito che di per sé si trasforma. Dicevamo ieri che Emanuele ci diceva che dalla parola traduzione, la parola traduzione e la parola tradire hanno la radice in comune. Anche la parola tradizione ha la stessa radice di tradurre e di tradire, quindi anche quando si parla in termini di tradizione si parla in termini di tradimento. Perché? Perché la tradizione è una dinamica, una dinamica culturale, non è qualcosa di immobile nel tempo. E quindi io ho avuto la possibilità di accedere a questo spazio rituale, che è uno spazio straordinario del Maggio di Accettura dal 2012, 11-12 ad oggi, con tutte le trasformazioni. Però questo è un rito connaturato anche ai saperi di comunità, al saper riconoscere l'albero giusto, al saper comunicare nel bosco con le specie arboree, al saper lavorare il legno. E' un lavoro dove c'è dietro una dimensione tecnica impressionante. Avete visto forse quelle sculture votive che portavano in testa alcune donne, che sono le sculture votive, si chiamano le cente, sono sculture realizzate con le candele, dietro la realizzazione della centa, che prima anche a Grassano mi dicono che esistevano, non si chiamavano cente, si chiamavano ginestre, giusto? Correggetemi se sbaglio, se qualcuno di voi lo ricorda. Ed è un sapere legato sia a un mondo che ovviamente non si è più riprodotto, non esiste più, e di questo ovviamente ne accettiamo le conseguenze, perché se dobbiamo accettare la trasformazione, dobbiamo accettare che in questa trasformazione qualcosa la perdiamo. Però ecco, ci sono tutta una serie di dimensioni, di un sapere, di una trasmissione culturale del sapere, che rischia chiaramente la scomparsa, e quindi il declino di una comunità significa anche il declino di pratiche di comunità. E il maggio di accettura potrebbe, io spero di no, potrebbe essere da un lato una di queste storie tristi verso la scomparsa, o verso semplicemente l'accettazione delle cose, oppure potrebbe essere già inserito in dinamiche di rinnovamento, in base alle nuove contingenze culturali che in qualche modo lo determineranno. Quindi volevo segnalare che noi siamo parte di un processo, e vi volevo mostrare un piccolo frangente di questo processo, di quello che io ho in qualche modo vissuto attraverso la mia esperienza di ricerca e di umano. Fatto. Se ci sono domande... Sì? La prendo al volo sulla pianta, così poi mi faccio da parte. No, allora, innanzitutto la prima domanda è, la quercia in questione è la quercus robur o la quercus ilex? Perché? Perché a prescindere che tu sappia rispondermi o meno, secondo me questa domanda può essere utile comunque per una riflessione, cioè tu hai citato la quercia, il matrimonio tra la quercia e l'agrifoglio. Scusa, mi ti interrompo, perché io ho detto una cosa sbagliata, non è la quercia, o meglio, la specie arborea è il cerrus. Ho detto quercia in realtà in maniera impropria perché è una quercia, però sì, la varietà proprio sua è cerrus. Ok, perfetto, mi hai risposto. Ok, scusami. No, 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 la risposta era quale varietà di quercia è, perché? Perché se fosse stata la quercus ilex, quindi il leccio, noi avremmo avuto una sincronicità tra questo matrimonio, perché il nome botanico dell'agrifoglio è ilex aquifolium, quindi c'è un ilex in comune tra una varietà di quercia e il nome botanico dell'agrifoglio. Quindi questo, a prescindere che tu mi hai già risposto che non c'è questa sincronia, la mia domanda è quante etnografie, quindi questioni legate all'umano, sono tracciabili e quindi non da percepire, come tu hai giustamente parlato della relazione col paesaggio, ma da leggere, cioè da ritrovare nella scrittura, proprio in ciò che noi abbiamo tramandato proprio come umani, dando nomi alle piante, per esempio. Perché, per esempio, essendo io poi etnobotanico e quindi appine a quello che tu fai, di questo mi servo. Per esempio è stato automatico dire, wow, se adesso mi dici che si parla del matrimonio tra quercus ilex e lilex aquifolium, vuol dire che c'è anche un tracciato proprio scritto che non è da percepire o da suggestionare, ma proprio è lì da cogliere e basta. Quindi quanto la tua ricerca poi trova anche in questo genere di rilevamenti proprio non suggestionabili, ma reali. Grazie della domanda, Giacomo. Allora, volevo risponderti dicendoti, in realtà ci sarebbe l'etnobotanica, poi l'hai incluso nella tua osservazione, nella tua domanda. Io, allora, per quanto mi riguarda, lo studio sul maggio l'ho fatto più dal punto di vista proprio delle pratiche, è riferito anche alla questione dello scopolamento, per cui la questione proprio etnobotanica non l'ho affrontata e soprattutto nel caso, se è anche questa la tua curiosità, la tua domanda, soprattutto nel caso di accettura non esiste, ma nel caso di accettura. Poi in realtà c'è uno studio, però va molto contestualizzato ad oggi, perché è uno studio di un antropologo da tavolino, quindi, che ha scritto un trattato dal titolo Il ramo d'oro, Fraser, in cui elabora anche delle connessioni tra la dimensione simbolica e quella botanica, soprattutto riferita ai riti del maggio, perché quando noi diciamo il maggio di accettura, in realtà il maggio di accettura fa riferimento a tutta una serie di riti diffusi inizialmente nel nord Europa e poi arrivati con i Longobardi in Italia e quindi anche in Basilicata, che appunto prendono il nome proprio dei riti del maggio. Ora, sul perché si chiama maggio, se volete ve ne parlo, nel senso che si chiamano maggio probabilmente facendo delle connessioni, c'è un'attinenza alla mitologia norrena. La mitologia norrena, quindi la mitologia del nord Europa, infatti arriva con i Longobardi il maggio in Basilicata durante una delle dominazioni. E perché il maggio? Perché qual era la divinità della fioritura dei rami sulle foglie nella mitologia norrena? C'è l'equivalente della nostra Bibbia, nella mitologia norrena si chiama Edda poetica o antica, e nell'Edda poetica quando si affronta il tema della cosmogonia, quindi della nascita dell'universo, a sorreggere l'universo, chi c'è? C'è Yggdrasil che è un'enorme quercia, quindi la quercia che poi la ritroviamo anche in altre religioni. Probabilmente forse è una delle specie arboree più diffuse dal punto di vista religioso. E quindi però chi è la divinità? Qual è la divinità nell'ambito della mitologia norrena? Che in qualche modo è responsabile della fioritura sui rami. È Freya. Freya, non so se si pronuncia così perché anche il norreno non lo pratico, però pensate ai giorni della settimana in inglese, se qualcuno di voi conosce il tedesco, Friday, Freytag, poi c'erano anche nelle altre lingue, adesso non me li ricordo, però perché nella radice del venerdì in tedesco e in inglese c'è Freya, che probabilmente il venerdì, perché? Perché probabilmente il venerdì era il giorno in cui c'erano cerimonie in suo onore. Ma questo però dice che c'entra col maggio. C'entra perché nel calendario probabilmente pre-cristiano, maggio ovviamente è sempre stato il mese della fioritura sugli alberi. Ma maggio quindi diventa, il mese del maggio, anche dal punto, se trasliamo dalla dimensione religiosa a quella non religiosa, è anche il mese del rinnovamento politico e sociale. Che cosa accade il primo maggio? E quindi ecco perché i riti del maggio? Perché conservano questa dimensione pre-cristiana legata quindi ai cicli agrari o comunque della fioritura e quindi si chiamano tutti questi riti che in qualche modo sono imparentati tra loro, anche se assumono forme diverse, perché abbiamo degli esempi di riti arborei in Germania, ma hanno un'esecuzione rituale completamente diversa. Però ecco, questa è la ragione per cui si chiama maggio. Non so se ho risposto ok. Sì? Ciao, innanzitutto complimenti per la presentazione. Io vorrei esagerare facendo addirittura due domande. Va bene. La prima riguarda i grafici che ci hai fatto vedere all'inizio, quindi parlando di digital divide e nomadismo digitale. Credi che lo strumento censimento non rifletta la velocità con la quale si sviluppa il flusso migratorio, il flusso con la quale si vive al giorno d'oggi il territorio e quindi non sia uno strumento così valevole nella ricerca demografica che intendi fare o che si intende di solito fare quando spesso si sente politici o eventuali che parlano di ripopolamento e vi discorrendo. La seconda invece riguarda la perdita della tradizione. Io ammetto, sono un povero settentrionale, quindi probabilmente non capirò mai l'attaccamento alle radici eccetera, però mi parlavi di come il rito comune si è legato insomma comunque alle persone che svolgono il rito comune. Essendo che si è parlato di spazi digitali, di comunità digitali, quindi con le proprie ritualità, i propri spazi, le proprie consuetudini, essendo che i giovani d'oggi vivono questo tipo di consuetudini e non vivono le consuetudini dei vecchi, quindi qual è il valore sociale e antropologico di salvare un determinato tipo di riti qualora i giovani non li sostengono e non li vivano con la stessa tipo di cosa? Ecco, insomma ha un valore antropologico, insomma questo qui era più o meno il tono della domanda. Va bene, ti ringrazio perché hai sollevato un paio di questioni importantissime. La prima è che purtroppo non ho fatto in tempo a parlarvi di nomadismo digitale che era quella la presentazione che avevo preparato, cioè era sul nomadismo digitale, ma lo faremo un'altra volta probabilmente. Allora, su l'idiosincrasia tra censimento e realtà, se ho inteso bene la domanda. Allora, a mio avviso gli strumenti legati appunto alla misurazione quantitativa dei fenomeni demografici non vanno di pari passo alle contingenze del contemporaneo, quindi a quello che sta accadendo oggi, perché a mio avviso lo strumento che ci permette di avere una visione di quello che sta accadendo oggi è l'ettonografia. Ti rispondo in maniera un po' scontata per un antropologo, cioè quello che è fondamentale, se vogliamo renderci conto della velocità con cui stanno accadendo le cose, dobbiamo permetterci il lusso di accedere a questo spazio di conoscenza anche attraverso la lentezza. Che voglio dire? L'ettonografia è appunto uno strumento di ricerca, vi dicevo all'inizio, di osservazione, di ricerca sul campo, che non è immediata. Cioè io il dato, bene o male, posso in qualche modo recepirlo quasi immediatamente. Faccio un elenco, un database, comincio a far incrociare i dati, e riesco ad avere l'informazione quantitativa, non che sia semplice, assolutamente no. Però che cosa succede? Secondo me lo strumento ideale è la pratica etnografica, ovvero l'immergersi all'interno di una comunità, per capire realmente dentro quella comunità cosa sta accadendo. perché per un antropologo la misura del tutto avviene dal particolare, ovviamente. Cioè per me è la singola storia di vita che è rappresentativa, non dico di una comunità perché è chiaro, non avrei la dimensione contraddittoria che invece è fondamentale, però sono le singole storie di vita, quindi nella lunga durata dell'osservazione, che io riesco a leggere i processi del contemporaneo. Quindi il censimento è ok, ma è una parte della lettura del reale, anche se di realtà non possiamo parlare perché la parola realtà è complessa. E quindi non so se era questa la direzione della domanda, più o meno. Poi magari ne discutiamo perché forse io mi creo delle immagini a mia volta preconcette rispetto a quello che mi viene chiesto. E invece il secondo quesito era sulla perdita della tradizione. Quello che dicevamo anche prima, le tradizioni esistono finché in qualche modo esiste un mondo capace di farle riprodurre, altrimenti si entra nel terreno della rievocazione, che è un'altra cosa. Cioè si entra nel terreno delle rievocazioni medievali, qualcosa che non ha più attinenza con il tessuto sociale e culturale della comunità, anche se anche quello poi diventa parte del... perché diventa un motore economico, eccetera, eccetera. Ma diciamo il rito del maggio esisteva nella... Accettura è un paese, dicevamo all'inizio, della montagna materana, che vuol dire che aveva un'economia basata sulla pastorizia. Il rito del maggio, oltre che sull'agricoltura, è caratterizzato da due movimenti, di buoi, quindi una parte del rito avviene con il trasporto dell'albero trainato dai buoi, quindi la pastorizia, e poi un'altra parte del rito, del trasporto, avviene attraverso gli uomini, perché essendo legato all'agricoltura, il trasporto dell'albero che avviene a spalla degli uomini, avveniva perché c'erano i braccianti agricoli. Con, diciamo, la fine in qualche modo della civiltà contadina, non avrebbe quasi più senso riprodurre il maggio, se vogliamo parlare proprio in termini... se vogliamo speculare sulla questione del rito. In realtà poi non è detto che le esecuzioni rituali vadano di parepasso con la morte di una civiltà, quindi può darsi che si continuerà a fare il rito, perché ora questo rito assume un'altra importanza per la comunità. Ma come si confronta però con, diciamo, le nuove generazioni? Potrebbe, il futuro del maggio potrebbe diventare o una grande rievocazione, e quindi magari diventa quel momento all'anno in cui, per abitudine, si è sempre fatto, e quindi lo si continua a fare, pure se non c'è più neanche chi sa fare le cente, oppure semplicemente potrebbe scomparire, oppure potrebbe ibridarsi con nuove pratiche, anche pratiche digitali. Ora, so che non sto rispondendo alla tua domanda, però nell'arco del lockdown è stato... ovviamente i riti in Italia sono stati tutti sospesi, cioè proprio dalla culla alla bara, cioè dai battesimi ai funerali ai riti di comunità, cioè tutti i riti sono stati sospesi. E anche il maggio di Accettura è stato sospeso. Per, in qualche modo, farlo riprodurre, è stato fatto riprodurre a livello digitale, quindi è stato creato, per esempio, un archivio digitale legato al maggio, che adesso si interroga sul ritorno dei riti, eccetera, eccetera, che però è uno spazio vivo dove si pratica una memoria, che però è una memoria attiva. E quindi anche quello diventa un modo per riprodurre la dinamica rituale, anche al di là, al di fuori del rito, perché potrebbe anche essere quello un modo per, diciamo, fare esperienza rituale. Ciao a tutti e tutte, sono Vincenzo, abito a Grassano, sono un tecnico agricolo e un attivista politico. La domanda che ti volevo fare, Marina, è perché c'è lo spopolamento? È una domanda che ci facciamo in molti, e ci viene spontanea, perché siamo su un territorio che ha grandissime risorse, noi in Basilicata abbiamo la capacità di accumulare un miliardo di metri cubi d'acqua, diamo acqua alla Calabria, alla Campania, alla Puglia, abbiamo 500.000 ettari di superficie agricola utilizzabile, abbiamo 300.000 ettari di boschi e foreste, abbiamo delle industrie multinazionali, una volta si chiamava la Fiat, oggi si chiama la Stellantis, che occupa in un distretto industriale, come è quello di Melfi, circa 10.000 persone, abbiamo la più grande riserva di idrocarburi su terraferma di tutta l'Europa occidentale, in Basilicata si estraggono 150.000 barili di petrolio al giorno, un barile di petrolio sono quasi un quintale e mezzo di petrolio, quindi abbiamo grandi ricchezze, le persone giustamente si chiedono, ma perché abbiamo tutte queste ricchezze e siamo costretti ad andare via e quindi ad essere parte di questo, ad assistere impotenti a questo spopolamento. Ma la mia domanda non è sulle cause che ti può dire la singola persona, io ti chiedo secondo te quali sono le cause profonde, le cause che sono alla radice di questo fenomeno, perché se io chiedo per esempio ad un agricoltore perché stai abbandonando la tua terra, perché questo è un fenomeno in atto, sono usciti di recente i dati dell'Istat che ha fatto un censimento dell'agricoltura in tutta Italia, un censimento che si fa ogni 10 anni e osservando questi dati si nota che in Basilicata l'abbandono dei terreni in tutta Italia c'è, in Basilicata è di più, cioè in un momento in cui abbiamo paura che ci manchi il grano, che ci manchi il mais, che ci manchi il foraggio, che ci manchi l'olio di girasole a causa della guerra, della siccità, eccetera, eccetera, oggi noi stiamo abbandonando il terreno agricolo e in Basilicata lo stiamo abbandonando più che altrove. Se io chiedo a un contadino dell'entroterra, delle aree marginali, della montagna, eccetera, eccetera, perché stai abbandonando il tuo terreno? Lui mi dice perché io non riesco più a vivere facendo l'agricoltore, cioè io come chiunque lavora si aspetta un reddito per vivere dignitosamente, non per, diciamo, accumulare ricchezze. Ebbene l'agricoltura non fornisce più reddito e quindi questa è una causa. Se chiediamo a un giovane perché te ne vai e ti dice perché qui non trovo una risposta che mi aspetto è perché non trovo un lavoro dignitoso, perché non trovo, diciamo, in un ambiente che mi consente, diciamo, anche dal punto di vista culturale, di avere stimoli, eccetera, eccetera. E va bene. Quindi sono tutte cause che, diciamo, risposte che ci possiamo immaginare. Ma dal punto di vista macroscopico, macroeconomico, quali sono le forze, cioè alla radice di tutto ciò, cosa c'è? Quali sono le forze che stanno spingendo allo spopolamento di una terra ricca, di una terra ricca di risorse? Io ho una mia idea, ce l'ho, può darsi che sia un'idea, diciamo, dettata dalla mia visione ideologica di come vanno le cose nel mondo. Per semplificare, rimango all'agricoltura. Perché, diciamo, paesi che per millenni, io vengo da un paese che si chiama Armento in provincia di Potenza, anche se abito qui da molti anni, che esiste, hanno trovato resti che risalgono al 3000 a.C., popolazioni autoctone. E quindi, se è esistito tanti anni, vuol dire che è stato in grado di produrre il cibo, il sostentamento, gli attrezzi, gli strumenti per sopravvivere tanti anni. Oggi è ridotto a una comunità di 600 abitanti e quindi è sulla soglia dell'estinzione e non a caso si trova nella Val d'Agri, cioè dove c'è appunto questa enorme ricchezza sfruttata dall'Eni, sfruttata dalla Total, eccetera, eccetera, dalle grandi multinazionali. Se io chiedo a un contadino, io conosco quei contadini perché da piccolo, prima era tutto un seminativo, si producevano varietà oggi pregiate che si possono permettere diciamo le persone che hanno un reddito sostenuto, il grano duro cappelli, il grano duro carosella, il gentil rosso, grani di pregio, venivano coltivati. c'erano armenti che pascolavano dappertutto, eccetera, eccetera, oggi tutto questo è sparito, non c'è più, non c'è più un forno, non c'è più un forno dove produrre il pane che serve a queste persone per mangiare giornalmente, comprano il pane che gli viene da altri paesi, dai supermercati, eccetera, eccetera. E se io mi chiedo perché succede questo? Perché evidentemente noi siamo in un sistema diciamo basato sul profitto sostanzialmente, cioè il nostro modo di produrre e di consumare, a questo modo di produrre e consumare, in questo modello in cui noi viviamo, non serve il piccolo agricoltore che produce il grano che poi serve alla comunità locale per nutrirsi, serve l'agricoltore industriale, quello che ha a grandi estensioni e che non sono terreni che stanno in montagna, sono in pianura, sono terreni dove con la digitalizzazione, per esempio con l'agricoltura 4.0, dove ci sono i trattori che possono camminare senza il guidatore, per esempio, che si muovono con i satelliti, eccetera, eccetera, c'è un'alta produttività e si produce una materia prima che è una commodities che viene, diciamo, trattata sulle borse del mercato globale, trattata dalla speculazione finanziaria, quindi a questo sistema non serve il piccolo agricoltore che produce, che mantiene la biodiversità, che produce cibo di qualità, serve un'agricoltura industriale per fare profitto, per fare speculazione, per fare falso cibo, cibo spazzatura, secondo me, quindi la causa di fondo che sta alla radice di tutto questo è il sistema capitalista, è un sistema che per riprodursi ha bisogno di, diciamo, accentrare le persone, finisco, ha bisogno di accentrare le persone nei centri urbani, ha bisogno, non ha bisogno, insomma, di una popolazione, di una cultura, di un territorio come il nostro, se non per ricavarci, estrarre materie prime e portare rifiuti. Ricordo che la Basilicata è tra i siti indicati per lo stoccaggio nazionale dei rifiuti delle scorie nucleari. Quindi, la domanda è, secondo te, quali sono le cause di fondo dello spopolamento? Mi inserisco un secondo per rientrare comunque nell'ottica della giornata. Ti dico che l'intervento che ci sarà dopo di Giancarlo sarà molto sul livello agri.